Al via la concertazione con le associazioni di categoria dei comparti Industria, Agricoltura e Commercio per la programmazione 2025 dei finanziamenti camerali per il sostegno alle imprese delle province di L'Aquila e Peramo. Tema dell'incontro è stata la programmazione dei finanziamenti camerali da mettere in campo nel prossimo anno tramite i bandi pubblici destinati alle imprese per sostenere l'export, la digitalizzazione, il lavoro, il turismo, l'accesso al credito, le nuove imprese giovanili e femminili, l'accessibilità dei locali e la valorizzazione dei territori di competenza, segnalando criticità e prospettive di soluzione delle tematiche rilevate. Il presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia, Antonella Ballone, ha rimarcato i risultati raggiunti dalla Camera di Commercio istituita nel 2020 a seguito del processo di fusione tra le Camere dell'Aquila e Peramo e che nel 2024 ha quasi raddoppiato il plafond di contributi erogati alle aziende, passando da 1,8 milioni di euro nel 2021 a 3,2 milioni nel 2024 per finanziare diversi bandi. Voucher alle imprese in tema di formazione e di nuove assunzioni, contributi a fondo perduto per partecipare a fiere internazionali, misure di accesso al credito per sviluppare le piccole e medie imprese nelle attività di investimento, voucher digitali e transizione energetica, concorso di spese per vacanze di gruppi, fondi per favorire l'accessibilità per disabili nei locali aziendali, contributi alle nuove imprese giovanili e femminili e infine finanziamenti per iniziative di valorizzazione del territorio. Il Presidente Ballone ha illustrato inoltre le attività messe in campo dalla Camera di Commercio per l'anno in corso e ha comunicato l'iniziativa di promuovere nell'anno scolastico 2024-2025 importanti attività dedicate agli studenti delle scuole medie e superiori tramite progetti di orientamento scolastico d'intesa con il Direttore Massimiliano Nardocci dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo.